E siamo con la signora Paola che praticamente porta questo FEDELUX, questa associazione in tutto il mondo, nella fattispecie però è ancora più curiosa la cosa perché siamo al circolo, l'ex circolo San Clemente, che è stato intitolato a Federico Luzzi, un tributo doveroso, oltre che molto carino. Alle nostre spalle c'è Federico Luzzi, la scritta del circolo è cambiata, quindi l'è stato intitolato. Abbiamo questa che si chiama una bandiera, no? Giusto? Perché tutto questo Paola? Allora, anche a nome della famiglia io devo esprimere la nostra gioia e anche la gratitudine nei confronti del Consiglio del Circolo che ha fatto tornare Federico nei campi dove lui ha cominciato a quattro anni e mezzo e dove sicuramente ha passato i giorni più felici della sua vita perché il direttivo del circolo ha deciso di concederci finalmente una sede perché sia l'associazione FEDELUX che la sezione AIL per non sprecare fondi con spese di rappresentanza che riteniamo inutili e non toglierle veramente alla destinazione dell'aiuto ai malati, non avevamo mai avuto ancora una sede. Finalmente ce l'abbiamo ed è bellissimo che dopo aver girato il mondo, l'Europa e l'Italia, Federico abbia una sede, sì, ad Arezzo, ma nel suo circolo. Per noi è una gioia grandissima. Questo vi servirà come punto di partenza per qualsiasi iniziativa, per qualsiasi riunione. So che tra poco, tra l'altro, tornerai perché c'è qualcosa di importante. Dunque, la prima cosa importante da dire è che fra pochi giorni, il 25 ottobre, è il quarto anniversario della morte di Federico. Quest'anno abbiamo scelto di commemorarlo in un modo, secondo me, molto tenero perché la sorella di Federico, Francesca, ha avuto la terza bimba che si chiama Ambra e sceglierà proprio quel giorno per battezzarla. Quindi nella messa in memoria di Federico alle 16.30 ci sarà il battesimo di questa piccolina ed è la vita che continua. E poi lo stesso giorno inaugureremo questa piccola sede della Fedelux e della sezione A, il Federico Luzi Onlus, che è l'associazione più grossa e che sta attivamente aiutando le persone, perché siamo riusciti con la raccolta dei fondi che io da anni porto avanti, adesso insieme ai volontari, a poter finanziare un servizio medico domiciliare. Paghiamo un medico di assistenza al reparto e chiunque abbia bisogno di materiali, di rimborsi e spese, se va a fare trapianti in altre città italiane, può trovare aiuto da noi, psicologico, fisico e economico, perché noi qualsiasi domanda abbiamo una risposta per tutti e questo per noi è il vero monumento a Federico Luzi. Nel ricordo di Federico Luzi è nata questa associazione Ollus che cerca di alleviare le sofferenze degli affetti da leucemia. Sapete che il volontariato ora passa un momento di crisi come un po' tutta l'economia, però c'è gente che nonostante questo si dà da fare e credo che vada incentivata ed aiutata. Ovviamente anche da parte mia in quanto aretino sono estremamente felice dell'intitolazione di questo circolo perché anch'io come tutti gli aretini un po' vecchiotti ho iniziato qui perché si iniziava tutti qui. Ti faccio un in bocca al lupo ed ovviamente per qualsiasi iniziativa chiaro e tondo una delle tue casse di risonanza. Nella presentazione dell'articolo trovate tutti gli indirizzi sia mail che telefonici per contattare Paola e Fede Lux che è questa associazione. In bocca al lupo.